Ciao ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mii, mi sto dimenticando. Comunque, dopo naturalmente aver mangiato, siamo tornati per continuare la nostra sacra missione contro il Creeper. Altri toffi, altri toffi, altri toffi. Io sprecherò un po' di tempo per metterlo ovunque, perché il mondo va illuminato. Almeno così diceva la Vodafone. Poi guardando la connessione che mi ritrovo personalmente ho qualche dubbio. Come sapete la scorsa volta c'è stato un attacco di Creeper. Sì, perché hanno provocato una mega eruzione cutale. Cutale. Cutale, di Cutor. Ecco qua. I mostri adesso si tengono lontani perché ci sono le torce. No. Rimane un po' buio il centro, ma vabbè. Vabbè, lo aspetta adesso. Sì, facciamo una piccola colonna magari. Vabbè, poi la facciamo. Sì, facciamo un po'. Sì, facciamo un po'. Sì, facciamo un po'. Perché Creeper ha fatto un'esplosione. Io odio Creeper. Ma ancora notte. Certo che ancora notte. Ma non è ben dormito. Sì, facciamo un po'. Facciamo un po'. Pazienza, tanto non posso n'entrano. Sicuro. Com'è che queste torce qua si trovano a perdurre? Cadono le torce? Spero di no. Abbiamo un bob da qualche parte. Sì, ma vabbè. Ma no, cavoli, è vicino al nostro altro lago. Pazienza, tanto adesso non ci dobbiamo andare. Ah, c'è un buco, c'è un buco sott'acqua lì. Non è, fa niente. Basta che non, non causa problemi un po'. No, solo che poi se ci cavi dentro non ci dobbiamo. Vabbè, fai. Sono molto po' di questo rischio. Direi di costruire una colonnina centrale per illuminare. Allora, come facciamo? Qua, mettiamo qua. Vai. Sì, direi di scendere così, ecco. E, ehm... Giusto. Allora, aspetta, vediamo quante ne abbiamo. 64 più una torcia e poi le altre. Ora, circondiamo tutto di torcia. Uno. Appunto. Due. Ma anche in basso che il lumino è mobile. No, va bene così, dai. No, giusto, perché se le metti in basso poi ostacolano la crescita delle piante. Ok, a posto. Adesso, ragazzi, abbiamo la nostra prima parte. Ora, a questo punto andiamo a dormire e poi continueremo a costruire. Ah, no, lo aspetta, facciamo... No, vabbè, va bene così. Sì, bene. Un po' di proverso la nostra vicinanza, normale. Ah, già, è vero, mi sono dimenticato. Naso. No, i zombie non muoiono. I zombie non muoiono. Chiudi la porta. No, anche se in realtà ci sono altre porte e non si sa mai che un'quip. Non si sa mai che un'quip. Vabbè, andiamo a uscire lo zombie. Eh, sì. Come hai fatto per cliccare lo zombie? Non so, perché ne sembra... Ah, perché avevo sentito rumore. Tanto non si può neanche avvicinare, perché... Ah, no, brucia. Cosa brucia? Si era messo a bruciare lo zombie. Ma va! È il colore rosso che prende quando fa il danno. Però non sembra, vabbè, fa niente. Adesso continuiamo a lavorare. Come sapete, dobbiamo allargare tutto sto porto qua. Chissà perché, in Minecraft tutti quanti hanno la... La... Boh, non so, la voglia di fare una casa sottoterra. Nessuno se la fa mai allo scoperto, magari senza tetto. Tutti quanti sottoterra. Eh, chissà sottoterra. Strano, dai? Io avevo una mezza idea perché lo fanno, eh. Io la mia casa avevo fatta in miniera, quindi... Sì, comunque poi facciamo una specie di scapuzzino anche in miniera, dove teniamo le cose più importanti. Tipo una cassa, una one bench, un... Perfetto, uno, due, tre. Una fornace. Un, due, tre, un, due, tre. Ed è legno, ecco. In miniera ci vuole tanto legno. È andato. C'hai tanti di quei piccoli. Tu c'è anche un altro che mi ho dimenticato da avere. Io mi dimentico da avere i piccoli. Oh, ragazzi, è una fortuna che non sia sabbia, eh. Arenaria. Comunque la sabbia si può trasformare in arenaria, lo sanno tutti voi. Quindi aggiungere alla sabbia l'arenaria diventa arenaria. Logico, ragazzi. Ok, allora, scusate, sì. Ma naturalmente noi sappiamo che Minecraft è logico. Domande fare. Seconda che fa queste cose qua, ti dice, guadagno un sacco di pietra. Ok. Pietra ed... Calcolando che io ho fatto una casa interamente fatta ai fornaci, direi che ne posso sapere qualcosa. Hai già detto. Altro piccone. In realtà stiamo lavorando con piccone già andato lì su. Però vabbè. Dettagli. Dettagli, dettagli. Io di solito per comodità mi tenevo la spada nel 9, la spada più potente che avevo sul tasto 9, il piccone sul 1 e le torce sul 3. Non so il perché. Allora, scusate, tracciamolo a cover. Perché mi veniva più comodo, vuoi? In caso di attacco subito tu premevi l'ultimo della tastiera e sapevi subito che quella lì era la spada. Sì, perché noi sul 9 avevamo quella di pietra. Comunque forte. Però, fa effetto. Ecco, quella di metallo è più chic. Va più di moda, attivamente. Cioè, voi non ve ne intendete la moda dei creeper, comunque... Quella moda dei creeper è proprio... Sì, cosa credi? Anche i creeper hanno una loro moda. Ecco la creeper. Siete veramente che unica cosa che sanno fare il traitor è scoppiare. Ma loro scoppiano in effettivicità. Esplodono di gioia. Sì, il problema è che ti ammassano allo stesso tempo. Eh, piccolino. Finiti. Usa la spada, usa la spada. Eh, ma che poi... La spada di pietra. Ma comunque è più veloce, spiega. No. Usa la pietra. Perché mi ero di... No. Vabbè. Usa... Troviamo un altro sistema. Tattattattà. Tattattà. Tattattà. Ok. Adesso non abbiamo più la confinione. Io lo odio quando fa così. Ottimo. Adesso fin dal fondo tutta quanta diventa infinita. La magia di Minecraft. Minecraft è una magia unica. Ti lo dici. Che italiano corre il giutto. Minecraft. Se spiantassimo degli alberi tipo gli erboscelli. Ci danno la ligno. Dobbiamo continuare ad andare fuori a prenderlo. E adesso poi dobbiamo andare a prenderla. No. Nella prossima puntata facciamo la miniera e il ritorno. E vediamo quanto tempo ci mettiamo a fine tutta sta cosa qua. Perché adesso poi dobbiamo ancora coprire la... Anche la scala. Tutto qua è la scala. Vabbè. Poi facciamo la musica. No. Dobbiamo andare a cercare altri semi. Ma la miniera ha i semi? No. Perché intanto che siamo in miniera... Intanto che siamo in miniera cerchiamo i semi in miniera. Non ha senso lo sai. Non ha un semi. Due semi. Tu volele più largo? Voi non lo sapete. A proposito di cinese. Non so se l'ho già detto. C'era una cinese che... No. No. E... Come era quella del... No. Non mi ha quello dell'inglese. No. No. Non mi ha quello dell'inglese. Me lo ricordo. No. No. C'era una cinese. No. Ma era una battuta della cinese dell'inglese. No. C'era una cinese dell'inglese. Era una battuta della cinese dell'inglese. Fidati di me. No. Era cinese. E poi praticamente l'ha lasciato. Era cinese e inglese. Me lo ricordo io. Dicevo troppo colto. Troppo colto. Non so. Fatevo le conclusioni. Posso capire che Wolf sia intelligente. Ma... Non fino a questo punto. No. E poi comunque la quella del genere. No. Era l'inglese. Me lo ricordo. L'aveva fatto. C'era l'inglese. L'ha fatto... L'ha fatto un nostro amico. No. L'aveva fatto a Stefan Karponza dopo che è andato in Inghilterra. Vabbè. Sì. 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 Poi che Stefan Karponza... Ah sì. Quel giorno in cui ci si è lamentati tutti che mi ha detto che era un coglione e che aveva saltato la scuola. Sì. Eh. Mi ricordo qualcosa. Poi si lamenta un bestia. Stefan Karponza. Quando vede il video. Se lo vede. Se lo vede. Non ci insuliamo tutto. Eh sì. Perché non va bene che non lo insultiamo. Poveri l'inglese. Poveri l'inglese. Stefan Karponza non è inglese. Ma lui è comunista. E mi sono sempre chiesto. Ma se noi continuiamo a dire che Stefan Karponza è comunista. Mi va la C a cano? Beh. Potrebbe essere là. È la soluzione. Adesso direi di. Poi scopriamo che tutto il video è senza voce. Che bello. È già successo. Ti viene un po' la nervosa. Anche perché. Questa qua la fa la continuata. No vabbè. Poi mettiamo la musichetta. Ehm. Diciamo. L'audio. Colpa di Windows 8. Sapete? Windows 8. Sembra da sta porno. Che arriva e ci chiede. Secondo voi. A cosa serve. Il sistema operativo. Poff. Serve a far crescere il computer. Direi. È giusto. Windows 8. Nella polo. Ma che si dà? La minimappa. Vedi anche le strisce. Di terra. Della piantagione. E poi. Nessuno ha mai capito. Di che piantagione stiamo parlando. Piantagione. Ehm. Ma. No vada. Il piccone. Allora adesso dobbiamo. No facciamo. No questa qua la teniamo. Appunto. Rompiamo il pietrisco. Sei. Povero naso. Tutto il tempo che l'abbiamo insultato. Poi. I muri vogliono tutti lo stesso colore. Quindi tapezziamo. Non c'è più pietro. Che cosa vuoi? Ma t'ha pure vedere come si gira. Eh non c'è. Non abbiamo più. Non abbiamo più niente. Scusa. Non è mica colpa mia. Se non abbiamo più un caff. Non c'è più. E' spento. Purtroppo è spento. Teniamoci un po' di legna. Con cui poi facciamo a carbonela. Scusa. Ah no. Facciamo a 4. 8. Che poi se no. Non ce ne abbiamo più. Io non capisco. perché non si possono bruciare le assi di legno. Ma il legno sì. No. Si possono bruciare sotto. Sì. Però non si può fare il carbone con la... Ok. Allora adesso fa. Aspetta. Guarda. No. Mai. Adesso guarda un po'. Ci sono un paio di clip. Dove? No niente. Sotto. Allora io direi di chiudere qui. No aspetta. Adesso guarda cosa facciamo. Prendiamo. L'ostante. Se il carbone ci dura. Allora facciamo una cosa. Sì. No. Ma cosa serve? Ecco me. Ok. Perché il legno da calcio lo bruci con il carbone sotto? Ma cosa serve mettere il carbone sotto? Brucia senza. Eh. Sarebbe stupido che ci voglia il carbone per il legno da calcio. Ciao. Facciamo qualcosa di divertente. No. Aspetta. No. Metti il carbone. No. 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 Aspetta. Vediamo la pelle. Mi sembra che si poteva utilizzare per fare un uniforme. Sì. Allora. Sì. Così sono i pantaloni. Poi. Il corpo era 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. Senza i laterali. No. C'erano solo le... Eh. Così. Aspetta. È così. No. No. Aspetta. Mettine uno. Vediamo se mi ricordo bene. Può essere... No. Come cazzo è che... Forse non ci andava qua. No. No. Aspetta. Facciamo... Aspetta. Facciamo... Facciamo l'elmo. Ecco. Che l'elmo ce lo ricordiamo tutti. Aspetta. Mi sembra. Facevi così. No. L'elmo non me lo ricordo. E' un po' vecchiero. Aspetta. Ah no. Facciamo una cosa. Aspetta. No. Sì. Ma almeno metti in pausa Minecraft. Perché quando hai l'inventario aperto. Comunque continua a scorrere il tempo. Sì. 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 Ok. Mettilo. Ecco. Perché se no. Prima che arriva in clip. Attualmente. Minecraft Italia crafting. No. Corazzo. Di cuoio. Tanto che ci stiamo facciamo vedere anche i siti. Ecco com'era. Mi faremo. Sì. Adesso poi guardiamo anche l'elmo. Quindi era. Ma com'è che era? Mi ricordo più. Così. 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 No. No. Devi mettere dietro il pezzo. No. Allora. Porca vacca. Semmo di soldi. Questi due qua vanno giù. Ah sì. Mmm. No. Non ci sta bene di inventare. Lo facciamo così. Poi. Ce lo mettiamo sopra. Ecco appunto. Poi aspetta scriviamo. Elmo. Di cuoio. 3. 5. Perché aveva aperto fantasia. Pazzesco. Quindi era. Non ricordo più. Allora. Porco mondo. Ciao. No aspetta. E' bello. Perciò così. Intanto la via. Ah ecco. 3. 5. 4. Sì. Che poi se tu lo vedi. Ti ricorda la forma del germo. No. No. Se lo vediamo. Quanto ci vuole per fare gli stivali. Uh. Perfetto. E se ne facessimo solo uno? Ce l'hai preso da Mike. Direi che così siamo belli vestiti che. Vestiti bene alla moda. Di creeper. Questa moda di creeper. Chiudi la porta di casa. Eh no. Chiudi la porta di casa. Allora che cazzo abbiamo messo. Guarda ci sono. C'è un mob. C'è un mob. Qui. Dormiamo che è meglio. Che tanto non è nelle vicinate. Sì. Sopra il tetto. Vabbè. Tu dormi. Ci vuole. Ok. Guarda poi casa. Chiudi. Guarda che. E ti telefono a casa. Io mi sto ponendo una domanda. Ma noi adesso abbiamo. Il puntino casa. Perché siamo con la versione che ha dentro la mod della minimappa. Quando giochiamo con un coso che non ha la mod della minimappa. Cosa succede? No. Perché ce ne sono due. Cosa? Eh se ne è sponato un altro. Allora. Qua c'è un ragno magnifico. E là ce ne è. Là c'è un creeper. Allora. Il ragno che intanto ti dà la nana. Ti dà... No non ti dà niente. Per l'arco. No non mi ha dato niente. Peccato. Batti quest'altro ragno. Là c'è uno scheletro e un creeper. No eh. Ok. Stavolta te l'ha dato. Tu vedi lo scheletro? No. Qua. No. Sì eccolo. Allora. Prima lo scheletro e poi il creeper. Cercando di non morire. Non mi danno niente. Non mi fa. Aspetta. Il creeper? No 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 no. Non fare così. Tanto anche se scoppio non ti fa tanto danno. Visto. E intanto ti ha fatto un bel favore devo dire. Aspetta poi. Prima facciamo poi quel mostro. Un mostro qua. Sì. Che è uno scheletro. La cosa più giore che ha fatto. Cioè com'è che fa colpirmi? Che cazzo ha preso fuoco? Sì. Come fa a prender fuoco? Ah perché giorno. Sì come ha fatto colpirti da dietro. Un mestiero. Non ci sta nell'inventabile. E come l'ha gettato. Non aspetta. Dobbiamo inventarci qualcosa per gestirlo. Trasforma. Ci posso fare. Trasforma qualcosa. Che ne so. Tipo. No. No aspetta. Mettiamo qualcosa dentro la cassa. E così. Guarda quando torni non c'è più niente. Fa niente senti. Comunque si mettiamo qualcosa perché effettivamente. Comodissimo il continuo a casa. E ti tenei fuori a casa. E la torre poi. Tutto 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 tutto. Troppo bello quando cade vedi. E poi arriva gli spani. Immagino veramente. Se gli uomini di Minecraft si potessero buttare. Sì come in caros di utile. No immaginate. E quando arriva in fondo. Dai la prossima però facciamo inire. Perché? Ce lo voglio. Ah sì. La prossima puntata vi faremo vedere la nostra organizzazione per andare in linea. Sì. C'era un casino. Per fortuna che nella prossima puntata avremo un aiuto inaspettato. Un'altra scoperta di Minecraft. Che non vi abbiamo ancora annunciato per non togliervi il gusto ma. E' una scoperta. E' acqua strifosa fa niente. Allora aspetta la ghiaia. La mettiamo via noi. Alla nostra maniera. A che serve? Ah ho capito. No no tienilo. Uno stock di ghiaia può sempre servire. Non so cosa serva ma magari per craftare qualcosa. Poi aspetta con l'altro. Tienilo tienilo uno stock di ghiaia. Magari per craftare qualcosa serve. Allora aspetta. Vediamo. Aspetta com'è. Cos'è che stava coccendo? Stava diventando carbonella. Solo che si è spento. Forse perché andava messo legno sopra e legno sotto. Cioè ti mettiamo questo link qua. Però aspetta ce ne sia una veglia. No vedi che aveva anche il gusto qua. Eh no qua non me lo lascia. Bisogna metterlo in pari. Ecco 25. Dovrebbe andare bene 25. Ci stiamo portando dietro tanto di quella roba inutile. Da quant'è che stiamo? Eh non lo so. Non ho avviato. Vabbè. Ho occhio. Ma chiudiamo qua sempre. No chiudiamo qua. Quindi bella a tutti da Wolf. Da Jacopo Mi. La prossima volta andiamo ritornando. Di Miniera. Quindi bella a tutti da Wolf. E da Jacopo Mi. Ma non l'abbiamo già detto. Questo sarà il nostro ultimo video.